Quanta fatica questa sera per conquistare questa vittoria determinante? Sì, questa sera era una partita fondamentale, trovare la vittoria. Siamo riusciti in un campo difficile perché le condizioni del terreno di gioco erano veramente, oserei dire, pietose. Quindi era difficile anche fare due passaggi di fila. Però abbiamo dato dimostrazione di essere un gruppo vero perché era veramente troppo importante fare risultato. Ha dato più fastidio il campo che l'avversario? No, capisco veramente la situazione in cui si trova l'Ancona e penso che sia veramente difficile. Loro hanno lottato col cuore perché ne vogliono venire fuori, vogliono dimostrare che sono una squadra. Quindi ci hanno messo in difficoltà e il campo sicuramente non ci ha aiutato perché noi stiamo dimostrando di essere una squadra che gioca la palla in un certo modo, tra le linee anche fare molto possesso palla e oggi non era assolutamente facile. Il gol è stato una liberazione? Sì, il gol è stato veramente una liberazione perché era difficile sbloccare questo incontro e quindi sono contento per Riccardo perché sono merita e ha fatto secondo me un grandissimo gol. Nel basket si direbbe un tiro da tre punti, nel senso che un tiro in porta è il Teramo, ha avuto il massimo con il minimo sforzo. Sì, abbiamo preparato la partita nel modo giusto, un po' il campo ci ha messo in difficoltà, quindi si è trasformato in una partita difficile da lottare su tutti i palloni. L'abbiamo fatto, poi sono entrato e sono contento per questo gol che vale molto per noi perché è una salvezza diretta, ci crediamo, credo che l'abbiamo dimostrato in queste partite e dobbiamo continuare così. Forse questo gol, che è uno dei più importanti di questo campionato, ti ripaga di qualche panchina di troppo? Sì, sia questo che quello di Pordenone hanno portato i tre punti. Io dico sempre che forse è meglio segnare un gol in meno, ma se questo gol porta la vittoria è sempre la cosa migliore. Giocare magari qualche minuto in meno? Vabbè, giocare è sempre bello, però uno rispetta le scelte del mister e poi se gioco 20-30 un tempo, due tempi, io do sempre il massimo per questa maglia perché ho sposato tra virgolette un progetto, ci credo, ci credevo e ci credo e ci crederò ancora. Adesso bisogna dare continuità o la botta finale in queste due partite in casa? Sì, adesso abbiamo due partite in casa. Dobbiamo dare il 100% perché possiamo metterci in una posizione di classifica veramente bella e raggiungere la salvezza diretta il prima possibile. Secondo me è come vincere un campionato per come eravamo messi. Adesso le azioni del Teramo per la salvezza salgono a che percentuale? Ma noi ci crediamo al 100% alla salvezza diretta, ci credevamo anche prima, quindi continuiamo così.